Pirandello nacque nel 1867 ad Agrigento, Girgenti, nella località di Caos. La famiglia era profondamente delusa dai mancati obiettivi risorgimentali. Studiò all'Università di Roma nel 1887 per poi recarsi nel 1889 all'Università di Bonn dove si laureò con una tesi sul dialetto siciliano nel 1891. Tornato a Roma compose nel 1901 l'esclusa, nel 1902 il turno e nel 1903 due eventi segnarono la sua produzione poetica facendola concentrare su temi relativi alla follia, alla prigione e al dissesto economico, in quanto nel 1903 la miniera di Zolfo della famiglia si allagò e la moglie presa dalla follia venne internata fino alla morte in un istituto. Nel 1904 abbiamo la produzione del fu Mattia Pascal, successivamente a livello teatrale assistiamo alla messa in scena di sei personaggi in cerca d'autore, inizialmente fu un fiasco ma nel 1921 a Milano la situazione mutò. A livello di produzione di novelle e di romanzi ebbe un ruolo fondamentale modificando i criteri della letteratura dicendo che la vita ha un flusso continuo ma questo viene interrotto dalla forma che immobilizza, paralizza e la blocca attraverso le cosiddette maschere che ogni essere umano deve indossare e nessuno sa veramente chi è perché in ogni individuo esistono una pluralità di sfaccettature, di persone. Inoltre smaschera la finzione della letteratura facendo della metal letteratura, analizzandola in profondità e attraverso l'umorismo concretamente sviscera la differenza tra un atteggiamento comico nei confronti di una situazione ben chiara che provoca quindi un senso di risata nei confronti di quest'ultima oppure l'umorismo consente di andare in profondità e attraverso questa profondità capire che poi in realtà non c'era granché da ridere e ne ha un esempio la signora di una certa età ghindata come una giovane inizialmente provoca la risa e successivamente tristezza perché sicuramente fa tutto questo per mantenersi un compagno ben più giovane di lei quindi scende in profondità a una visione claustrofobica e paradossale del mondo ma riesce comunque a coglierne gli aspetti più divertenti. Per quanto riguarda le altre opere troviamo I vecchi e giovani del 1909, Suo marito del 1911 e Quaderni di Serafino Gubbio, operatore del 1915 mentre l'umorismo è del 1908. Per quanto riguarda la sua carriera vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1934, nel 1926 raccolse le sue novelle per un anno e nel 1936 morì. a Roma nel 1926 scrisse sull'ultimo romanzo uno nessuno e centomila